Sagnà gli offre il primo pallone della sua carriera in Serie A saranno quattro, informa Paolo D'Alzanto dal coordinamento i minuti di recupero in un campionato a 20 squadre perché i record sono le 28 del Pescara nel 2012-2013 quindi al momento record negativo eguagliato con la sconfitta in arrivo, il benedolare per così dire del nuovo record di sconfitte nella Serie A 20 squadre con 29 andiamo da Barzaghi Sì, per raccontarvi l'uscita di campo di Sandro è stato salutato, dà un applauso anche Calcio di punizione che sta per battere Rutians tiene lì il pallone Stepinski